In casa Fidelisandri è tutto pronto per il Cudini 2.0, sarà infatti proprio l'ex tecnico del campo basso, esonerato un girone fa dopo il pareggio esterno sul campo della Gelbison, il successore di Bruno Trocini sulla panchina bianco-azzurra, fatale all'allenatore calabrese, sollevato dall'incarico insieme al direttore sportivo Fernandez per bocca dell'amministratore delegato Pietro Lamorte nel pomeriggio di sabato, il deludente segno X rimediato contro la stessa Gelbison al Degli Olivi con tanto di rimonta subite in condizioni di superiorità numerica, niente dimissioni volontarie per i due come auspicato dalla società, a lavoro adesso per una doppia risoluzione consensuale, annunciata quest'ultima sarà a quel punto tempo dell'ufficialità del ritorno del mister di Sant'Elpidio Amare, ancora sotto contratto con il club e per questo fin da subito favorito su tutti gli altri, toccherà a lui provare a portare a termine quella che allo stato attuale delle cose somiglia parecchio a una vera e propria mission impossible, con la formazione federiciana ultima in classifica e distante 4 lunghezze dalla Viterbese penultima e 10 dal Monterosi Tuscia quintultimo, a 8 giornate dal termine della regular season. I punti collezionati sotto la sua prima gestione, durate il tempo di 11 giornate, furono appena 7, oggi ne serviranno almeno il doppio, a partire dal derby con il Monopoli del prossimo weekend, la cui preparazione inizierà nelle prossime ore.